All'inizio di ottobre prenderà avvio una nuova edizione del censimento permanente della popolazione e dell'abitazione. È una iniziativa che ormai ha assunto una cadenza annuale, che fornisce la fotografia del Paese e che chiama in causa oltre 4.500 comuni, 2 milioni e mezzo di famiglie, una rilevazione che viene condotta naturalmente con tutte le garanzie rispetto alla riservatezza e quindi all'uso e al trattamento dei dati, che coinvolge non solo Istad, ma anche le amministrazioni locali, le prefetture, i comuni. Ed è quindi un'occasione con la quale i cittadini, che nell'occasione precedente hanno partecipato in una misura molto alta, il 92%, e ci auguriamo che questa volta sia ancora superiore, i cittadini contribuiscono a fornire un'immagine del Paese che è poi estremamente utile, sia per chi deve fare le scelte rispetto soprattutto all'attività di governo e di natura amministrativa, sia per fare i confronti anche sul piano internazionale, visto che avremo l'occasione proprio nel 2021 di avere lo stesso risultato anche per altri Paesi europei. Quindi l'invito che andiamo a rivolgere è di partecipare, di partecipare attivamente, perché questa è un'iniziativa che aiuta a conoscere il Paese e aiuta a migliorare la qualità della vita di tutti noi attraverso l'informazione statistica.